C'è il primo gol in questo campionato L'ha tanto cercato, l'ha trovato L'ha tanto cercato, l'ha trovato L'ha tanto cercato, l'ha trovato L'ha tanto cercato Poi in profondità L'ha, l'ha e c'è il gol Domizzi per Bruno Fernandes Rischia moltissimo Attenzione a Icardi Se ne va in area di rigore In crocia E il gol del vantaggio è in terra Poi l'appoggio dietro Icardi col destro E fanno tre Minuto 83 E Icardi ancora una volta Approfitta di una clamorosa dormita Della difesa dell'Udinese E la castiglia Attenzione Icardi Palla dentro Accorcia l'Inter Al 61esimo Mauro Icardi Aic con doppia Medel Palazio Si sta allargando Ragatomo Palazio va al cross Verso Icardi Mauro Icardi Per il 2-0 Inter Sua classica esultanza Perisic La sua sinistra Perisic Il cross per Icardi E poi si va per me Centrale Nonna Gari Medel Il suo laggio per Icardi Posizione regolare Icardi con sinistro Porta il vantaggio L'Inter Al quarto minuto Subito avanti Lerazzurri Quindicesimo La battuta del 9 La conclusione Il vantaggio Inter Al minuto 17 Con il tredicesimo Gol in questo campionato Della capitano Maurito Icardi Inter 1 Torino 0 Il corridoio diventa Difficile di Belanzi Per quelli che di Inter Fortunoso Ora un tocco in profondità Per Perisic Che punta l'area di rigore Per Perisic Per Icardi Il Bub merito Per il Stage Nord Per per la visibile Per la visita Per la visita Per l'area di Didi Me ấy